ok sta registrando benvenuti nel canale meli made in sud la stanza non è perfettamente in ordine c'è qualcosa fuori posto io sono tornata da poco da una bella camminata mi sono rilassata tantissimo ho scaricato anche tantissimo sono stata all'aria aperta ma sono stata anche in una bellissima caffetteria ovviamente nel mio canale le campane sono immancabili adesso c'è una new entry il trapano ho fatto un po di shopping ho acquistato qualcosa da acqua e sapone quindi un video dedicato a acquisti fatti da acqua e sapone per la maggior parte sono tutte cose di cui avevo bisogno tranne qualche piccolo sfizio che mi sono concessa ogni tanto mi concedo qualche sfizio tutto questo discorso per dire o registravo in questo momento oppure non so quindi preferite melania imperfetta del resto io lo sono sempre ma comunque magari oggi un pochino in più oppure un video a lungo termine io penso più la prima opzione senza la prima mostro tutti gli acquisti che ho fatto da acqua e sapone il trucco anche non è perfetto non è dei migliori ma non nessun nessuno che non prendetemi così come sono come in tutti i video e vi faccio vedere quello che ho acquistato allora ho acquistato un dentifricio allora dovete sapere che a casa mia cioè vi è una diatriba nel senso che per mio marito qualsiasi dentifricio va bene anche se uno dei suoi preferiti è il sensodine ma in generale qualsiasi dentifricio per lui ha dopo io voglio va bene per me non è così sul dentifricio e comunque voluto provare un prodotto un dentifricio che io non ho mai mai provato ed è il blanks ai carboni attivi 100 per cento naturali c'erano tantissime tipologie di dentifricio questo mi ha colpito perché ha il bollino del prodotto dell'anno 2019 e quindi ho deciso di acquistarlo è un prodotto e licheni artici non è abrasivo e ha la pasta nera questo qui non so se l'avete mai provato faccio vedere anche il tubetto sembra una vera e propria crema in realtà è un dentifricio e lo proviamo ce lo proviamo lo provo perché questo dentifricio è solo mio lui si tiene il dentifricio come si suol dire a napoli appuzzottato perché questo è il mio dentifricio poi acquistato da acqua smag di carta sembra ogni cosa questa se il video è dedicato ad acqua e sapone ad avuto già sono dalla nipo smettuto e ho detto tutto avevo bisogno dei dischetti struccanti io utilizzo il panno in microfibra quasi sempre metodo che adoro ma utilizzo anche l'acqua micellare dipende dal trucco dipende dal make up dipende anche dalla voglia che ho di struccarmi comunque o utilizzo l'acqua micellare oppure il panno in microfibra ho finito i dischetti e ho preso questi della cotoneve questi sono nero li ho pagati 99 centesimi sono prodotto made in italy e sono 100 per cento puro cotone con acqua termale bormio purezza e vitalità bormio terme ma comunque sono 80 dischetti questi qua fibre intrecciate con acqua termale ma se sono fatti in puro cotone sta acqua termale a russa cioè negli ingredienti dovrebbe esserci date delle lucidazioni per cortesia grazie poi 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 questa è l'acqua che ho portato con me durante la camminata e la levissima con zinco adesso la beva a me piace moltissimo anche quel quell'acidulo del ribesso portato anche l'ombrellante ma non ha piovuto però poi 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 avevo bisogno della matita kajal quindi la matita nera da mettere all'interno dell'occhio e ho visto una promozione anche perché ho il ho in uso il mascara il bump che sta quasi per abbandonarmi e quindi ho approfittato di una promozione a 11 euro o 12 euro non ricordo c'era il max mascara della max factor volume infusion con cheratina e nella versione black ovviamente e poi abbinata c'è la matita kajal hai come faccio mai registra con chi si cari di ricchi non lo so allora questo è il mascara e questa è la matita kajal numero 0 20 black vediamo un po come si comporta durante il video però la mina è molto morbida e proveremo il mascara non lo apro perché devo terminare prima il quello di pupa altrimenti un peccato ma comunque poi magari faremo un mi preparo con voi rilassante e ve lo faccio vedere in ve lo faccio vedere in uso vabbè comunque ci siamo capiti poi ho acquistato un bagno un bagno e vabbè ciao un doccia crema aromatico della tesori d'oriente mi piace molto il pack perché a un confezione un involucro ecco molto maschile io amo molte cose maschili e questo mi piace moltissimo sicuramente vado ad eliminare sto sto coso perché mi da fastidio e questo sentite qua legno di guaiaco guaiaco e pepe nero allora a questa confezione effetto pelle e adesso andiamo a sentire la profumazione perché ovviamente non l'ho annusata parte che c'è il sigilo anche di garanzia ma comunque anche se non ci fosse stato se non mi fosse stato comunque è una cosa che detesto vedere e detesto farla perché non è rispettoso nei confronti degli altri ma comunque stringi stringi o mamma mia o mamma mia se amate le profumazioni maschili mamma mia allora io ci sento il patchouli è la classica profumazione maschile mi ricorda anche la mirra ed ha un retrogusto di tabacco mamma mia mamma mia se volete fare un regalo ad un uomo oppure voi amate le profumazioni maschili e soprattutto le sapete portare perché anche per le profumazioni maschili bisogna sapere porta questo è veramente ottimo almeno per quanto riguarda il mio naso poi ho approfittato di una promozione da acqua e sapone e ho acquistato questo kit già ci sono tutti i kit di ogni specie da acqua e sapone su instagram vi ho pubblicato qualche foto soprattutto qualche video quindi vi invito a seguirmi anche su instagram li sono attiva di più di più di più vi trovate con il nick meli maden sud trattino in basso comunque se andate nella mia pagina nel mio profilo nella home del profilo di youtube del mio canale trovate proprio il link diretto ad instagram comunque bando le ciance ho approfittato di una promozione perché a 6 euro e qualcosa o 5 99 non ricordo comunque quello è il prezzo del marchio e provenzali che mi piace tantissimo ho preso questa combo ossia l'olio di mandorle dolci pure al 100% e la crema corpo fluida che non ho mai provato sempre della stessa linea avevo bisogno dell'olio di mandorle perché quello che avevo è finito ma ho già accessinato la bottiglia da qualche giorno e quindi ho approfittato di questa promozione c'è da dire che vi è una bella iniziativa scalda il cuore non il pianeta questa confezione è in carta certificata fsc garanzia di una tracciatura di filiera controllata dalla foresta all'utilizzatore finale secondo rigorosi standard ambientali sociali ed economici quindi anche in questo caso potrebbe sembrare una sciocchezza ma in realtà non lo è e adesso vi faccio vedere ovviamente tutto in celofanato anche questa è una bellissima idea regalo perché sono dei prodotti molto utili soprattutto per se sapete che la persona utilizza questi questi prodotti appunto allora la crema per il corpo è grande quindi è la confezione grande è da 200 ml non contiene siliconi parabeni senza materie di origine petrolchimiche senza conservanti aggressivi e sensibilizzanti senza allergeni del profumo secondo la direttiva e ci sono vari codici ed è appunto una confezione da 200 ml i provenzali non testa sugli animali e 100 per cento vegano testato per i metalli pesanti nichel cromo e cobalto questa è la crema ovviamente anche in questo caso è tutta sigillata non la apro perché ho pochissima crema del marchio natura verde bio se non ero sempre presa da acqua e sapone appena termino quella resta veramente un dito di crema vado ad aprire questa e poi avete la full size del olio di mandorle dolci 100 per cento italiane vedete che qui c'è la certificazione della nazionalità delle mandorle vedete questo prima non c'era molto molto apprezzato questo e apprezzo tantissimo anche l'olio all'interno della bottiglia in vetro quindi molto bene il colore ambrato del vetro per preservare la qualità del olio di mandorle dolci molto bene anche l'utilizzo del vetro soprattutto quando parliamo di questa tipologia di prodotti e quindi questa è la confezione poi 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 cosa vi faccio vedere in tema crema voglio mostrarvi questa novità qui c'è scritto novità ed è del marchio nivia crema olio fiori di ciliegio e olio di jojoba crema olio delicata fragranza di fiori di ciliegio assorbimento rapido pelle normale secca 200 ml c'erano altre profumazioni ho postato sempre su instagram i video queste cose le faccio solo io la profumazione mi piace molto perché è molto delicata la profumazione niente stasera non riesco a parlare non proprio ossigeno al cervello stavo dicendo che la profumazione mi piace molto perché è molto delicata e poi quello che riesco a dire immediatamente è che si assorbe velocemente la crema cosa non da poco dettaglio non da poco mi piace molto è estremamente delicata alla profumazione e e quindi mi sa che di crema e corpo ne abbiamo e sto a posto per un bel po di tempo questa era la profumazione che mi ha tirato di più maggiormente rispetto alle altre ed è per pelli normale secche e la specifica che fa nivia è l'assorbimento rapido quindi una caratteristica la caratteristica principale di questa crema è che appunto dona un assorbimento rapido ed è una confezione da 200 ml adesso vi mostro un pochino di maschere perché avevo bisogno di acquistare qualche maschera sono tutte in offerta quelle che ho preso e adesso ve le mostro ad una ad una allora ho acquistato la maschera viso questa della geomar a me il marchio geomar piace tantissimo qui dice che è una nuova formula 95 per cento di origine naturale ed è una maschera anti age rassodante con ambro oceanica e bio con ambro oceanica e bio fiori di ibisco questa qui ok sempre un marchio valido è sempre stato un marchio valido niente stasera non riesco completamente a parlare e poi ho preso sempre del marchio geomar perché questa era in offerta a meno di 70 centesimi la maschera esfoliante illuminante con alga corallina e bio fiore di iris questa qui questa non l'ho mai provata quella forse sì ma questa non l'ho mai provata sarebbe bello anche poter realizzare una skin care fatta face to face e poi ho acquistato questa crema ma quale crema ma che dici maschera viso idratante pelle normale latte di mandorla aloe senza oli minerali idrata in profondità e rigenera la pelle questa qua vedete sono due monodosi vi dice anche come la dovete applicare ma va che ha maschero bovis ma lo stesso applica comunque noi apprezziamo la la leo crema che ha gentilmente mostrato come si mette questa questa mascherante qua dentro c'è aloe vitamina c vitamina e e tante altre cose comunque si tiene in posa dai 15 ai 20 minuti la devo provare e poi vedremo com'è questa maschera e poi ho preso due novità per me sono due novità queste allora sono praticamente maschera più siero in un laggio mai visto laggio vista e maggio scudato non lo so comunque per me è una novità io non mi ricordo che le ho viste può essere anche che le ho viste non mi ricordo allora maschera detox anti age sì perché adesso va di modo l'acido ialuronico il detox eccetera eccetera il carbone attivo vabbè tutti i tipi di pelle dermo purificante antiossidante con carbone vegetale da bambù sentito ed estratti di frutti senza parabeni dermatologicamente testato avete il primo step e il secondo step mi sa che farò un bel video siero post trattamento lenitivo emoliente anti arrossamento sentite con acido ialuronico e fiori bianchi di giglio e margherita senza parabeni questo qua quindi avete la maschera nera al carbone vegetale da bambù con proprietà disintossicanti e purificanti gli estratti di frutti contenuti in formula prevengono la formazione dei radicali liberi responsabili dell'invecciamento cutaneo ad capizzi noi se invecciamo e per i radicali liberi l'olio di mandorle dolci ed il burro di carità nutrono la pelle in profondità il siero loziono lenitivo ed emoliente grazie alla presenza della margherita e del giglio bianco la formulazione arricchita dall'acido ialuronico e dalla peonia bianca che agisce sull'uniformità del colore della pelle ed attivano gli arrossamenti ma che se è una maschera o è un bucchetto queste sono divagazioni che divagano e poi ho preso quest'altra versione che è sempre detoxinante black mask peel off con carbone vegetale da bambù questo carbone c'è sempre con mela e bardana senza parabeni sempre qui ci avete prima secondo step allora lenitivo emolente anti arrossamento con l'acido ialuronico e fiori bianchi da giglia e margherita questa è illuminante questa è la termopurificante illuminante e questa è la termopurificante antiossidante allora qui trovate sempre questo carbone vegetale da bambù bambù fitoestratto di bardana succo di cetriolo mela e vitamina c qua trovate il bouquet e qua trovate il frappè troverò e vi farò sapere poi restando in crema e avevo bisogno di una crema di una crema a giorno di una crema del giorno allora io volevo comprare la crema quella uscita da poco da lidl quella a loro c'è loro dentro e loro colloidale ma io ho fatto ricerca su questo ingrediente non fate ricerca su internet per cortesia fate ricerca parlate con persone esperte documentiamoci da fonti certe quello che leggete su internet al 99 per cento 98 per cento ma sono tutte stupidaggi sono tutte cavolate diciamo che non è un ingrediente assolutamente consigliato e tra breve usciranno degli studi scientifici che andranno a spiegare meglio la validità dell'ingrediente più che altro il suo potenziale effetto negativo che può avere sulla pelle degli esseri umani quindi io ho deciso di non acquistarla e avevo bisogno di una crema da giorno c'erano diverse tipologie di creme che hanno sozzicato al mio interesse ma alla fine ho scelto questa geomar è una crema anti rughe bene sì io sono sono dell'87 quindi sto iniziando a invecchiare pelle più elastica e compatta quindi cercavo una crema bella bella compatta questa è della geomar 95 per cento di origine naturale ed è una crema rassodante anti rughe con bio fiore di ibisco ed è questa qui allora non ha siliconi non ha coloranti non appara bene non ha oli minerali all'interno c'è la vitamina c allora aspettate che vi dico quello che dice l'azienda in genere col marchio geomar io mi sono sempre trovata benissimo contiene ambra oceanica alga marina che svolge un'azione rassodante da anti rughe migliorando la sintesi di collagene prendiamo sempre tutto le pinze fiore di disco biologico noto per le sue proprietà tonificanti e anti invecchiamento utilizzata regolarmente mattina e sera su viso e collo diversi detersi scusate ed asciutti rende la pelle del viso più elastica compatta ed idrata e le rughe appaiono visibilmente attenuate per un programma completo utilizzare l'intera linea geomar viso test in vitro eccetera eccetera quindi all'interno non abbiamo parabene siliconi coloranti e oli minerali se riesco vi metto la fotografia con la lista degli ingredienti questa è la crema il tappo è in plastica rigida e il vasetto è in vetro abbiamo un pao di 12 mesi e gli ml sono 50 quindi la proviamo e la proviamo la provo e vi farò sapere sicuramente almeno deve passare una quindicina di giorni almeno a volte anche di più io non capisco come ci siano persone che semplicemente perché ricevono prodotti a casa riescono a fare una recensione dopo una settimana dopo qualche giorno ma soprattutto quando parliamo di creme di sieri di prodotti di un certo tipo che vanno testati anche a lungo termine come si fa a dare un giudizio così immediato non lo so chi da voi voi come la pensate qualche prodotto ma giusto 23 prodotti che non hanno niente a che fare con il beauty e il make up ma comunque per me sono dei prodotti interessanti quindi ve li mostro ugualmente sono delle salviette della fria non so se le avete mai viste sono della linea il fria easy la carta veramente igienica formula delicata con aloe vera sono 12 salviette emoliente rinfrescanti e poi ho preso queste lenitive riequilibranti gettabili nel bc perché sono bio disgregante quindi assolutamente compatibili con l'impatto ambientale non testa sugli animali marco fia fria formula dermatologicamente testata è un tessuto che rispetta l'ambiente e è utile quando siamo fuori casa e non abbiamo la carta igienica e perché le acquistate non le acquistate sinceramente per me ma le acquistate per giulio per mettere per metterle in cartella c'è anche la variante proprio per i bambini da mettere in cartella quelle non erano in offerta ma sicuramente poi andrò a comprarle perché le voglio provare ho deciso di acquistare queste perché la versione mini è molto compatta non è pesante quindi anche nello zaino dei bambini dei ragazzi insomma che utilizzano lo zaino sono molto utili perché riusciamo a utilizzare la carta igienica ma non portiamo dietro un pacco enorme di prodotto soprattutto sono utili se vogliamo semplicemente provare la tipologia di prodotto e quindi poi qualora ci trovassimo bene possiamo prendere la confezione più grande perché effettivamente c'era e voi avete mai provate fatemi sapere al pezzo forte allora io ho acquistato un prodotto della marchio coccolino sono arrivata in cassa e la signorina gentilissima mi ha detto signora guardi che se lei acquista qualsiasi tipo di prodotto esso sia sempre nel marchio coccolino avrà in omaggio un pupazzetto in peluche io l'ho preso perché comunque ho acquistato un ammorbidente e ho detto siccome io li utilizzo vabbè prendiamo un altro ammorbidente e mi hanno dato questo pupazzetto è un pupazzetto così piccolo e non è altro che questo pupazzetto qui piccolino molto molto tenero e non ve lo mostro perché la giulio magari vi metto la fotografia se riesco a recuperarlo perché appena l'ha visto giulio immediatamente l'ha voluto e poi ho preso questo ai fiori di tiare e frutti rossi questo ho già acquistato in passato e mi piace moltissimo è una profumazione abbastanza persistente anche gradevole forse per i miei gusti un po' troppo dolciosa ma per le coperte mi piace questa profumazione perché poi dopo qualche giorno il sentore dolciastro va a spegnersi e predomina la scia di profumo fiorito e mi piace moltissimo soprattutto per la biancheria da letto e per la biancheria della camera da bagno quindi ho acquistato questo ma il primo prodotto del marchio coccolino che ho acquistato è poto 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 è lui il famoso ammorbidente ultra concentrato della in collaborazione con moschino c'era la versione nera la versione bianca e la versione fucsia secondo voi quale potevo prendere questo fucsia ammorbidente ultra concentrato in limited edition questo non è un giocattolo importante questo segno perché mi raccomando non tenetelo alla portata dei bambini e per 38 lavaggi ed è da 570 ml non conosco il profumo giriamo la testa così ecco sembra ma come si gira su cosa come sarà aspettate un minuto si toglie la testa del profuma aspettate mamma mia ha una profumazione molto molto forte ed è anche abbastanza denso mi piace non mi fa impazzire proprio come profumazione somiglia molto a questa ma è più meno dolce di quella è più più fresca e più corposa è una profumazione più corposa più densa più massiccia adesso vado a mettere questa capa su questo ammorbidente perché a me personalmente fa impressione a questo l'ho trovato in offerta è perché io sei euro per un ammorbidente non ci spendevo nemmeno nemmeno quindi la voglio questo pupazzolano per me poi ognuno per me è così se vuoi mettere il minuto me la basta 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 ebbene sì io e il mio pupazzetto il mio picci picci questo mi sa mi sa che sarà la mascotte dei miei video in tutti i miei video metterò questo pupazzante così sarà la mia mascotte io mi devo differire anche se non è che ci vuole tanto per differirmi ma comunque ogni persona è unica non è che solo io sono unica ogni persona è unica ed è inimitabile di conseguenza io devo avere questo questo coso qua devo avere questo pupazzo passato qualche minuto in spensieratezza spesso mi mandate dei messaggi molto molto belli dove mi scrivete delle frasi bellissime soprattutto sentire il vostro affetto e sentire la vostra gioia il vostro entusiasmo nel ascoltare una perfetta estranea ossia io sentire che vi strappo un sorriso per me è veramente una una gioia quindi vi ringrazio ringrazio i nuovi iscritti ringrazio i vecchi iscritti e le persone che mi seguono veramente dai tempi dei tempi e vi ricordo che mi trovate su instagram col nick melima den sud trattino in basso vi aspetto lì perché lì c'è una comunicazione più diretta sanguinia sanguinolenta e un abbraccio grande 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 fatemi sapere se il video vi è piaciuto magari mi lasciate un polliciante così io capisco che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video come sempre a come sempre un bacio un abbraccio andrà lì scrivetemi giù nei commenti hashtag coccolino o moschino quello che volete mettere voi diamo un nome a questa mascotte come la vogliamo chiamare vi aspetto giù tra i commenti ciao